Entra nel vivo la campagna elettorale a Varese con una singolare iniziativa messa in campo dalla coalizione di centrosinistra, il Galimberti Bus. Il sindaco di Varese uscente Davide Galimberti ha portato i cittadini varesini in giro tra cose fatte o che si stanno facendo in città proprio su un bus. Si è partiti così da Villa Miglius con la riqualificazione in corso delle edificio donato al comune dai fratelli Babbini Cattaneo con finalità culturali dove sorgerà una scuola d'alta cucina. Si è poi arrivati alla Silvio Pellico, la cosiddetta scuola green con impatto zero dal punto di vista dei consumi. Si è poi giunti al palaghiaccio dove si è vista quella che è la ristrutturazione dell'impianto sportivo. Infine si è andati al grande lavoro del centro diurno per gli anziani che sorge nell'ambito del comparto stazioni. Ancora ci saranno un'altra puntata settimana prossima dove altre cose si potranno vedere con il Galimberti Bus. Tanta gente e tanto interesse per questo progetto.